Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere la preparazione di un piatto molto facile, molto veloce anche. Ci potete farlo per pranzo, per cipolle, con il tèo. Anche la curcuma è buono per chi anche vuole dimagrire, è una cosa dietestica. Allora, adesso vi faccio vedere gli ingredienti molto semplici, molto semplici, guardate, semplici che in qualsiasi paese del mondo può venire fatto, perché gli ingredienti li trovate dappertutto, no? Sì, certo. Сегодня будем готовить курицу с приправой carri, carri, e questo bлюдo è facile da preparare in ogni strada del mondo, perché ci sono tutti questi prodotti. E anche, perché carri ha curcuma, questo bлюдo è anche meglio per la salute. Allora, abbiamo un bel petto di pollo, un bel petto di pollo, adesso lo tagliamo, dell'uvetta che mettete un pochino nell'acqua per ammorbidire, una mela, una mela gialla, e i curry, e un po' di sale. E naturalmente, l'olio. E naturalmente, l'olio, è un po' di sale, e i buoni cattolino, sono state in qualsiasi, e questa è una macchina, è un po' di sale, e poi lo tagliamo, qui c'è il filetto, e poi noi lo tagliamo alle stelle, così. come stracciati, quasi come stracciati. come stracciati, è, quando richi così, è quasi come stracciati, come stracciati, come stracciati, è quando richi così, è come stracciati. come straccetti sì sì non tutti piacciono il curry ma che piacciono ha un buon sapore sì sì ma sono tante le persone qui piacciono il curry comunque sì 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 ma anche questo è una cucina indiana è un tipo di asiatico perché il curry è molto spesso in india e come in questo modo faccio il caccia caccia sfintate noto biano come del rispetto è affitto Tagliamo mele. Обязательно очищаем от кожуры, итальянцы очищают от кожуры все, почти все фрукты и овощи, никогда не увидите, чтобы итальянец съел яблоко с кожурой, так же, вот так, вот так. Тонко тонко нужно яблочко срезать и мелко. Так, вот Карл показывает, как? Си, должен быть кусочки. Городайте, их пиццы очень маленькие, потому что, когда вы description в пацаны, nella padella bastano 2-3 minuti e quindi i pezzi piccoli piccoli. То есть Carlo ha detto 2-3 minuti dobbiamo abżarare, per questo i pezzi piccoli devono essere piccoli. 2-3 minuti dobbiamo abżarare. E il piatto facile facile e si cuoce in 3 minuti. Da, cioè questo bлюдo è molto facile, facciamo facile e facciamo facile e facciamo. Vediamo quanto. Sì, a occhio, sì, certo, e voi vedete. То есть на глаз, Carlo, сейчас. A seconda di quanto pollo avete, quante persone siete. Ecco, e mettete, io direi che... E poi aggiungiamo la nostra uveta. ...izium... ...si, столько, Carlo, perché dice che la uveta è dolce. Sì, la uveta è dolce, ma... e poi io faccio un po' di marinata perché poi bisogna lasciarlo bisogna lasciarlo lì un po' di sale il nostro carri noi abbiamo comprato questo carri questa confezione ce ne è tanto vedete e c'è tutto dentro ha tante componenti andolo curcuma chili anche aglio chiodi di garofano e coriandolo anice finocchio e quindi è completo ecco mettiamo un po dell'olio perché è una una marinata ecco naturalmente naturalmente se a voi piace con un po più piccante a gusto vostro e seconda di come di come vi piace poi vi regolate insomma comunque questa è la base e allora noi andiamo значит вы можете добавить приправы столько сколько вы хотите то есть дальнейшем можете регулировать Carla делает всегда на глаз перемешиваем в этом маринаде a chi piace si può mettere anche un po' di pepe a noi piace e mettiamo un po' di pepe nero non tanto ma un po' ci sta bene no di da sapore e quindi non lasciate guardate com'è facile da insomma pregatoria da con gli occhi marinati eccolo lasciate un po' poi a vostro gusto potete anche lasciarlo solo una mezz'oretta un'oretta no non è detto che uno lo deve lasciare proprio tutto buongiorno a tutti allora adesso prendo il curry oggi per pranzo è pronto perché è marinato si è marinato allora eccolo qua ecco è marinato e vedi antiadherente anzi pregarmo la scovra dobbiamo si mettete un pochino di olio ma non tantissimo perché già c'è la marinata e a questo punto guardate importante la padella deve essere riscaldata prima e potete mettere un po' di cipolla o potete mettere a noi piace ad esempio piace con con uno spicchietto d'aglio insaporisce sai però anche senza niente anche senza niente va bene però quello che è importante che la padella sia calda нагреваем scovra do e non avizzi luk ili c'è snog nuca lui привычка вот она только только чесnaca разрезает e сейчас будем обжаривать insieme al pollo mettiamo noi mettiamo l'insalata usiamo questa perché siamo un pochino a dieta e allora allora ci piace insomma stare un pochino attenti però potete usare benissimo il riso da il riso quello orientale riso basmati però noi facciamo una belle insalatina fresca con le verdure il pomodoro citriolo quando l'olio è caldo quando l'olio è caldo lo mettete giù nella padella così semplicemente ecco tempo di cottura tre minuti sono sufficienti poi vedete se vi piace di più più cotto lo coccete di più ma insomma non è tagliato così sottile il pollo che ci vuole pochissimo dato scarleti dolga voce non gare perché non ci vuole pochissimo c'è molto molto e poi vedete sapete regolare ma non è una cittura lunga questo piatto tre quattro minuti con la padella calda questo è un piatto molto leggero molto leggero dietetico fa benissimo e quindi un pranzo ideale per chi ha poco tempo per cucinare perché avete visto pochi minuti nella padella calda è il gioco fatto questo è un piatto leggero dietetico e ideale per chi ha poco tempo buon appetito tutti buon appetito